Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con l'A1, personale su strada tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma e sempre in A1, questa volta in direzione Firenze, un veicolo in avaria tra Valdarno e Incisa-Reggello. Passiamo alla 11, personale su strada tra il Bivio A11, raccordo Luca-Viareggio, e la 12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa. Ancora sulla 11, materiali sulla carreggiata tra Chiesina-Ozanese e Alto Pascio verso Pisa. Ancora due notizie che riguardano l'A12, tra Rosignano e Colle Salvetti, personale su strada in direzione di Genova e tra Massa e Carrara c'è un veicolo in avaria in direzione anche qui di Genova. Guidate con prudenza per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, città metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti, grazie a tutti.